Abbiamo avuto un ampio scambio di vedute sulla situazione politica, la Lega conferma il proprio sostegno pieno alla giunta da me preseduta, così come in Veneto e in Piemonte continuiamo ad essere alleati per svolgere un'attività di governo come abbiamo promesso i cittadini. Certo, il panorama che sta emergendo è pesante, però lasciamo anche che tutto venga depurato da un certo sensazionalismo, aspettiamo di sapere esattamente quello che è vero e quello che non è vero. Io apprezzo il fatto che la Lega abbia dichiarato di voler andare fino in fondo nel verificare quali sono stati gli avvenimenti reali e se ha messo a disposizione dalla magistratura le proprie carte, è il modo giusto per ripartire.